Buonasera a tutti e benvenuti a Villa Olmo in questa ottava presentazione di un grande evento culturale in questa villa. Perché le donne per Boldini avevano un'attrazione magnetica, peraltro non ci dimentichiamo che sposa 87enne, una non ancora 30enne. E vi devo dire la verità che tra i vari elementi della personalità boldiniana quello che più mi piace è questo qui. Non lo so se la cosa possa lasciarvi, possa stupirvi, non credo, penso che sia del tutto comprensibile rispetto a una certa visione del mondo e quindi non lo dico perché ci sono le televisioni e quindi riprendono tutto, ma è un anticipatore di numerosi personaggi decisamente famosi. Quindi in realtà i comportamenti nascono nella storia dell'arte e quindi diventano leciti perché sono parte del patrimonio artistico internazionale, neanche nazionale. Speriamo in un successo straordinario anche in questa mostra, ma contenti davvero che tanti con noi vivano, anche solo per la frazione di un secondo, l'emozione di fronte a quei volti, a quei colori, a quei quadri. Speriamo in un successo straordinario. Speriamo in un successo straordinario. Speriamo in un successo straordinario. Grazie. 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 Grazie.